il made in italy del del settore è rappresentato benissimo nelle due ruote con ducati che oltretutto sta primeggiando in una maniera quasi imbarazzante nello sport con piaggio con fanti che con beta quindi ci sono tanti tanti marchi che hanno successo il made in italy e direi anche meglio il made in europa è l'industria di riferimento nell'alta gamma in maniera importante considerate che per l'alta gamma l'europa è il mercato mondiale di riferimento e nell'ambito europeo l'italia è il mercato più importante sia in termini di produzione che in termini di mercato quindi ci sono tutti gli elementi perché il made in italy e il made in europe possa possa avere successo